Dobbiamo chiudere. Questo è un programma che ha una sigla storica che si è inventato Michele Guardi con Franco Godi, quella di Uno Mattina. Il Mr. Jingle della nostra televisione. Esatto, e allora a questo punto voi avete un motivo in più per entrare nella storia. La televisione è una cosa seria e noi ce la suoniamo con gli strumenti giocattoli. Diamo appuntamento a domani con Camper. Signore e signori, la Playtoy Orchestra diretta dal maestro Fabrizio Cusani nel team di Uno Mattina Estate. Prego. A domani, grazie. Ciao.